Perché i posti naturisti sono pieni di vecchi? Buongiorno fanciulli, benvenuti e bentornati sulle Sex and Rouse, noi siamo Ivano e Morena. Allora, non è completamente vera questa affermazione, c'è anche gente giovane dai. Sì certo, c'è gente giovane quando ci siamo noi. Non sono. Allora, è vero che quando abbiamo fatto la nostra prima esperienza naturista, ci siamo guardati intorno e abbiamo notato che c'erano persone di una certa età e anche famiglie, devo dire. Sì, sembrava la fuoriuscita di un RSA. Ma no! Cioè, proprio vedevi questi anziani con sti cosi penzolanti che andavano in giro. Ma non scegliamo nei dettagli. E quindi, cioè, ci siamo posti un pochino questa domanda, no? E ci siamo anche dati delle risposte. Quindi perché i posti naturisti sono pieni di vecchi? Perché non sanno dove andare, perché il medico è occupato, perché a un certo punto fa caldo anche per stare in città. Comunque, questa non è una delle risposte. No. Perché sono persone libere da che cosa? Dalla sessualizzazione, dai canoni di desiderabilità, dal giudizio sui corpi, che non è necessariamente una cosa positiva, perché noi consideriamo le persone da una certa età in su fuori gioco, che non gliene frega più niente del sesso e della sessualità, che non ne fanno più, e sono praticamente con un piede nella tomba. E invece non è vero, insomma, è una visione un po' ageista. Però, diciamo, la cosa buona per loro è che sono un po' svincolati da queste gabbie, no? Sì, hanno provato a fare tutto quello che dovevano fare. I bravi genitori, i bravi nonni, i bravi lavoratori. Sono andati in pensione, c'è un po' detto, senti, sai cosa c'è? Ma non c'ho più niente da perdere. Nel senso, ma perché devo vivere la mia vita così costretto delle regole che ho subito tutta la vita? Adesso voglio fare un po' quello che voglio, insomma, no? Quindi il secondo motivo è che se ne sbattono, ecco, dovremmo imparare a farlo prima per essere più gente giovane nelle siagge naturiste. O meno gente con granny issues. Anche? Vabbè, ma chi se ne frega. Terzo motivo, forse, sono anche quelle generazioni che hanno vissuto il 68, gli anni 70, la liberazione, o quello che sembrava un processo di liberazione che poi non si è molto concretizzato. Anzi, se guardiamo all'oggi, in realtà c'è stata una regressione per quanto riguarda la cultura della nudità in Italia e nel mondo. In Italia siamo sempre più indietro, bisogna dirlo. Cioè, è vero, noi quando mettiamo piede fuori dall'Italia, esplorando i posti naturisti, intendo, troviamo sempre delle culture diverse. A meno che andiamo a Capdug, andatevi a vedere il video se non l'avete ancora visto, non vogliamo più parlare e sicuramente non ci vogliamo più tornare. Sì, c'è gente rispettosa, gente che non viene con l'erezione a mostrarti il proprio interesse e apprezzamento. Diciamo, anche per questo vi mandiamo il precedente video sull'erezione nei posti naturisti. Che comunque è come inviare la dick pic su Instagram. Basta, raga, basta, non gliene frega nessuno il vostro pene. O a qualcuno si va, costruite le cose. Arrivare col pene per dimostrare che c'è un piacere, nel senso un apprezzamento, è come ruttare a fine pranzo. Sì, esatto. Complimentela poca. Lo stesso livello di borghesia e di buona maniera. Quindi sarà sempre così, nel senso le spiagge naturiste, i luoghi naturisti saranno sempre popolati da persone anziane o vogliamo deciderci a svecchiare questi posti? No, e quest'anno abbiamo fatto un esperimento, siamo andati in spiagge naturista con 30 persone e siamo stati subito bullizzati da 4 anziani. Sono arrivati vedendo questo gruppo di persone giovani, allegri, con una cassa spenta. Pazzesco, come osi. E ci hanno aggredito dicendo, eh, questo però è un posto dove vogliamo stare tranquilli, è un posto dove la musica non si può mettere. Falso, la musica può mettere dove vuoi. È un posto che comunque noi ci siamo arrivati prima, quindi le regole le facciamo noi, ma le regole le possiamo fare tutti quanti insieme e non lasciarle fare agli anziani, perché se le lasciamo fare agli anziani, secondo me non funziona tanto bene, perché se questa gente qua è figlia del 68 che doveva essere il momento della liberazione sessuale totale e poi non è creato dei figli che non sono stati in grado di fare altro che farci arrivare alla censura dove siamo arrivati oggi, probabilmente non hanno fatto un gran lavoro, quindi continuiamo a fargli fare questo lavoro, diciamo di prendere in mano noi la vita e il naturismo in Italia. Sta diventando un video ageista, non era questo l'obiettivo, non è colpa dei vecchi se oggi ce la c'è in giù. No, grazie vecchi che avete fatto tutto questo lavoro, adesso state nel vostro che contiamo noi. Di solito non usiamo tanto la parola vecchia, non siamo così ageisti, giuro, giuro per tutti e due. Comunque popolate le spiagge naturiste, fate come noi, portiamo la gente giovane, che comunque c'è già, c'è già, andate, provate a vedere. Vabbè però gli anziani hanno fatto anche cose buone, tipo... Morena, ma cosa hanno fatto gli anziani di buono che non mi ricordo?